La gente ha partecipato, è un servizio eccellente, c'è una buona soddisfazione, non ho sentito persone che hanno criticato sia le strutture dell'Asur che hanno fatto un lavoro straordinario, sia anche le persone che si sono impegnate come i comuni per l'allestimento, la disposizione del palavitri e l'organizzazione dei parcheggi. Mi pare che alla fine sarà su un 15-20% forse la partecipazione, considerando che questa è un'area dove tutti quelli che vengono a lavorare dalla provincia avevano già fatto i tamponi, perché appena c'era uno che era positivo le aziende facevano fare a loro spese tutti i tamponi, quindi direi bene. E poi diciamo che questa location, come si dice oggi, è propedeutica anche ai vaccini quando arriveranno. Ecco, diciamo che questo qui è il primo step, quello degli screening e poi ci sarà anche un po' l'appello quando arriveranno i vaccini a tutti i cittadini di farlo. Io penso che come tutti i vaccini vanno fatti, non è obbligatorio ma è come se fosse obbligatorio, perché se io non lo faccio posso infettare un altro, quindi diciamo che l'appello fatto dal padre, santo padre, dal papa è un appello a farlo, io credo che tutti noi dovremmo invitare a fare i vaccini. Diciamo che rispetto alle due fasi precedenti, in cui si è registrata un'affluenza complessiva alla fine più o meno intorno al 20%, con una percentuale di soggetti positivi inferiore all'1, 0,8-0,9%, considerando che è una popolazione totalmente asintomatica. In questa fase che interessa i comuni di Vallefoglia, Gradara e specularmente Terre Roverischi, Orciane e Monte Felcino, c'è un lieve calo di affluenza. La percentuale di positivi sostanzialmente è la stessa, ma l'affluenza rispetto alle altre sedi è un pochino in calo. Nella fattispecie di Vallefoglia questo è parzialmente spiegabile, con il fatto che ci sono molte grandi aziende nelle quali avvengono già periodicamente screening dei lavoratori. Sono aziende con un'alta popolazione lavorativa, quindi questo probabilmente ha sottratto affluenza al sito di Vallefoglia. Comandata e come mai ha scelto di venire? Per avere una soddisfazione personale, va bene, è andata benissimo, non ha fatto neanche male, è quella che ci vuole, anche per stare più tranquilli. Ho scelto di aderire innanzitutto perché siccome sono un commerciante, sono sempre tra la gente, quindi alla prima occasione ho profittato per fare questo controllo che non avevo ancora neanche mai fatto, non ero stato chiamato e non l'ho mai fatto. L'iter è scorrevole, funzionale, è bello organizzato, se non arrivi col foglio compilato te lo compili lì, è una cosa, 5 minuti insomma, via. Poi c'è il quarto d'ora di relax in attesa dell'esito. Benissimo, tutto molto bene, grazie all'organizzazione, grazie a tutti, ritorno al mio lavoro sapendo di essere un negativo, quindi per il momento è viva la vita, è viva il 2021. L'esito è stato negativo, quindi va bene, mi ha mandato su WhatsApp la Michela Vitri che questa mattina facevano il tampone, quindi me la sono sentita divenire perché volevo sapere il risultato. Tutto qui, è andata bene. Negativo perché sì, se è negativo uno esce subito, si fa abbastanza presto. Tutto è stato abbastanza veloce, molto ben organizzato, circa un quarto d'ora ho fatto tutto. Tutto qui, è andata bene.